Dopo la pausa pasquale, le squadre ble scendono di nuovo in campo. In promozione, gli umodica di Momo Carpentieri si sfida contro Enna, un match casalingo importante per i Rosso Blu, che sulla carta possono ancora agganciare i play-off, poiché distanti solo di due punti dal Priolo e solo quattro da Floridia. Un posto però che non dipende solo dagli uomini di Franco Rapocciolo, ma anche dai risultati delle due dirette concorrenti. Il Frigentini affronta in trasferta il Mister Bianco, un match importante per entrambe le squadre, per gli Etné che vogliono agganciare il secondo posto nel girone, e il Frigentini che vuole portarsi a casa una vittoria. Il Santa Croce deve affrontare in casa lo Sporting Obea. Gli uomini di Gaetano Lucenti, anche se pronti per i play-off, non possono avere cali di attenzione, in quanto l'obiettivo è vincere le ultime tre gare della regular season per poter mantenere la seconda posizione in classifica. In eccellenza, il match tra ASD Città e Ragusa e Adriano non si disputa, perché con il ritiro dell'Adrano, il Ragusa ha acquistato automaticamente tre punti a tavolino. Il Ragusa dunque dovrà prepararsi per la prossima partita contro il Paterno.